Incredibile Turam, Giuntoli studia la formula, svelato il colpo sensazionale che potrebbe sconvolgere il calciomercato europeo. Turam alla Juventus. Del resto non è un segreto che al direttore sportivo Giuntoli piaccia particolarmente e i bianconeri sembrano essere pronti a fare sul serio per il talentuoso giocatore. Anche perché lui gradirebbe molto trasferirsi a Torino, essendo anche lui fin da bambino tifoso juventino e a casarsi nella storica squadra in cui militò suo padre. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Il top club europeo è pronto a mettere sul piatto un'offerta monstre per Turam, che è nella shortlist di molte squadre di prestigio. Con il suo impatto devastante sul campo potrebbe essere la pedina mancante nello splendido meccanismo di Simone Inzaghi, ma c'è un dettaglio che potrebbe cambiare le carte in tavola. La possibilità di giocare in patria al PSG potrebbe influenzare la volontà del giocatore. La società nerazzurra si trova quindi di fronte a un bivio. Resistere a qualsiasi offerta mantenendo intatto un tandem d'attacco tra i migliori d'Europa oppure accettare una cifra considerevole registrando una plusvalenza incredibile? Il mercato è in fermento. Ora passiamo al direttore tecnico Giuntoli, che sembra avere le idee chiare per la Juventus. Ha individuato in Kefren Turam, centrocampista dinamico del Nizza, e figlio anche egli di una leggenda come Lilian, il rinforzo perfetto per la Juventus. Con forza fisica, visione di gioco e ottima tecnica, Turam potrebbe diventare un pilastro per la vecchia signora. Ma c'è un altro dettaglio importante. Il contratto con il Nizza scade il prossimo giugno, nel 2025. Questo potrebbe agevolare l'operazione, che si potrebbe chiudere intorno ai 40 milioni di euro. Tuttavia, resta da vedere se gli investimenti per Turam saranno giustificati, considerando anche altri obiettivi di mercato. I destini di Marcus e Kefren Turam sono incerti, ma una cosa è certa. Il calciomercato non smette mai di sorprenderci. E voi, cosa ne pensate? La Juventus dovrebbe fare di tutto per portare Turam a Torino o dovrebbe concentrarsi su altri obiettivi? Lasciateci i vostri commenti e continuate a seguire le ultime novità sul nostro canale.